Tecmed, ovvero tecnologia da indossare, siamo all'interno di Vicenza allo September 2022 e insomma qui c'è un concentrato di tecnica e innovazione e di fatto orologi nuovi. Sì, esatto. Tecmed nasce nel 2005 e grazie ai nostri 15 anni di esperienza nell'ambito dell'Information Technology siamo riusciti a diventare una delle aziende italiane più conosciute per la produzione degli smartwatch. Infatti siamo stati proprio i primi in Italia a portare gli smartwatch nelle gelullerie e soprattutto a credere che dietro ad un'anima tech, tecnologica si nasconde in realtà uno stile ed un'eleganza a tutti da raccontare. Infatti cosa c'è di più glamour e alla moda di raccontare? Ecco, qualcosa che unisce l'innovazione e lo stile. Quindi effettivamente grazie soprattutto alle informazioni che sono lette dai sensori dello smartwatch è possibile accedere appunto a queste informazioni direttamente dal polso ma anche dal cellulare tramite l'applicazione dedicata. Quindi insomma è possibile rimanere sempre più connessi al nostro corpo e anche certo perseguire uno stile di vita più salutare.